La collaborazione con MOM è ottima, quindi lavoriamo insieme e adesso il nostro prossimo obiettivo è quello di introdurre anche i bus elettrici più piccoli in città. Proprio così, Treviso potrebbe essere la prima città del Veneto a disporre di mini autobus elettrici per il trasporto pubblico. Questo almeno è l'intento di Casugana, che sta facendo pressing sulla MOM, azienda di trasporto pubblico della marca, affinché dia inizio ad un progetto sperimentale di mini bus elettrici da impiegare nel centro storico. La tecnologia è matura per farlo, anche se il suo impiego stenta a decollare in Italia, dove sono pochissime le città, Roma tra queste, ad avere i mini bus elettrici in esercizio. Lo scenario di riferimento piuttosto è quello europeo, tedesco in particolare, e Treviso potrebbe dunque essere città pilota nella mobilità verde e sostenibile. È ancora presto per parlare di tratte, linee ed orari, ma quello che è certo è che alla MOM ci stanno lavorando. Attualmente l'opzione verde per il trasporto sostenibile è rappresentata dagli autobus a metano, che sono già 32 sul totale dei mezzi urbani, ben il 60% del totale. Ma è il trasporto elettrico la svolta, e con il mini bus Treviso potrà vantare una patente verde di tutto rispetto. Una ricetta seria per emissioni di CO2 e polveri sottili, contro le quali targhe alterne e domeniche a piedi appaiono come lance spuntate. L'annuncio della futura svolta elettrica nel trasporto urbano è arrivato proprio a margine della presentazione dei risultati sulla mobilità sostenibile. In attesa degli autobus elettrici, cresce intanto il bike sharing e si conferma un successo il servizio di sosta e ricarica della batteria gratis per le auto elettriche. Esaurite le tessere e gratuità del servizio prorogata fino a fine anno. Aumentano le soste sulle piazzole blu, più 89 mila euro nel 2015, ma non decolla l'utilizzo dell'SMS per il pagamento. Grazie a questo progetto abbiamo potuto sperimentare altre forme, non solo il mero trasporto di persone, ma anche l'integrazione ferro-gomma, l'integrazione con la bicicletta.